Sì, chiediamo a tutti di entrare, se per favore fate entrare. Sì, chiediamo a tutti. Di sostituirlo, cercando di dire anche ciò che lui voleva dire e che ritengo importante. Abbiamo anche tempi sufficienti perché c'è stata una defezione, anche qui purtroppo è un periodo di lutti e malattie. Se Carlo Modonesi è rimasto per un lutto, poi abbiamo invece l'amica Maria Grazia Mamuccini, con la quale abbiamo fatto molte cose insieme, come ISDE, che a causa di un problema familiare, anche qui una malattia grave, non può partecipare. Quindi avremo solo due interventi. Io farò una breve presentazione, semplicemente per dire una cosa. Anzitutto che siamo di fronte, anche parlando di agricoltura e sostenibilità, a problemi che coinvolgono in qualche modo l'Unione Europea. Perché molte delle norme sono di natura europea, in particolare la politica agricola comunitaria, ma anche tutte le cose collegate, la normativa sui pesticidi, di cui si parlerà. Il tentativo, tipo far to fork, di rendere in qualche modo l'agricoltura molto più vicina ai cittadini, eccetera. Tutte cose importanti, però a mio avviso c'è un grosso problema. Che fino adesso la PAC, le politiche per i pesticidi, al di là dei nomi usati, Greening, Nuova PAC, tutto il riavvicinamento con i cittadini, tutto questo, dalle parole ai fatti non siamo mai passati. E ancora oggi, quindi, è un grosso problema, un grosso impegno, io credo, che dobbiamo svolgere come cittadini, come associazioni, nei confronti dell'Unione Europea. Perché questi impegni a parole diventino impegni nei fatti. Purtroppo la lobby da una parte dell'industria agrochimico, pesticidi, fertilizzanti, eccetera, dell'agrochimica è molto potente. E' molto potente lo Stato che ha la più grande fabbrica di questo tipo, che è la Bayer, e quindi la Germania. E la Bayer ha anche preso la fabbrica più importante di OGM e pesticidi. E quindi, capite che è anche difficile, lo vediamo con tutta la battaglia che ha fatto Isde sul glifosato, e che si riesce, non si capisce come sia possibile nascondere i dati come si è fatto fino adesso, se non rendendoci conto che stiamo lottando contro dei poteri fortissimi che sono quelli appunto che condizionano tutta l'agricoltura. Ma purtroppo anche sindacati di categoria del mondo agricolo hanno difeso queste politiche. E si oppongono ai cambiamenti, un po' come fanno gli amministratori della pianura padana che non vogliono le nuove norme sull'inquinamento ambientale e atmosferico. Ecco, queste due cose collegano in qualche modo il precedente tavola rotonda con questa. E vi dico quello che aveva preparato Carlo Modonesi. Giustamente lui dice, ma c'è un rischio che agricoltura e sostenibilità diventino o siano già uno simoro. Uno simoro perché? Perché l'attuale agricoltura industriale non può essere sostenibile. Questo è il primo punto. Quindi bisogna cambiare il modo di concepire l'agricoltura perché possa essere sostenibile. E qui giustamente Carlo faceva riferimento a un ossimoro che ci portiamo dietro dagli anni Ottanta. E cioè da quando è uscito il famoso rapporto della commissione Brunton, Our Common Future, dove si parlava di sviluppo sostenibile. È il primo ossimoro che ci portiamo ancora dietro. Cioè l'idea di uno sviluppo sostenibile, se per sviluppo intendiamo la crescita continua delle produzioni, è assolutamente impossibile. Però continuano a riempirsi la bocca di questo. La cosa grave è che il concetto di sostenibilità in agricoltura, da idea che doveva portare a un cambiamento normativo, legislativo, a quel greening, cioè a quella trasformazione più ambientalmente accettabile dell'agricoltura, è diventato semplicemente uno slogan delle multinazionali. Perché se voi andate a vedere, mi ha fatto avere Carlo degli esempi, io qui ho davanti per esempio la Bayer, che parla di nuove e sostenibili modi di azione in agricoltura, oppure la Singenta che dice che si impegna a raggiungere gli obiettivi, i goals dello sviluppo sostenibile per il 2030, oppure, non so, industrie chimiche, la Sumitomo Chemical, che parla di ambiente e sostenibilità, la Cargill, altra multinazionale, è sempre la Bayer. Insomma, cosa vuol dire? Il concetto che abbiamo denunciato tante volte del greenwashing è un elemento portante e normale nelle politiche di autopubblicizzazione dell'industria agrochimica e poi anche di settori del mondo. Abbiamo giustamente messo in evidenza come l'inquinamento atmosferico sia strettamente collegato non solo alle attività industriali, ma in forte misura all'agricoltura e soprattutto agli allevamenti, ma sono proprio i produttori di carne che poi si presentano con il nome sotto di azioni di sostenibilità. Addirittura qualcuno che produce carne si definisce bio, poi andiamo a vedere che bio è e vediamo che di bio non ha niente. Cioè, questi termini bio, green, greening, sono tutti greenwashing. Questo è un dato grave rispetto al quale noi dobbiamo porci un problema, cioè o le politiche per l'agricoltura dell'Unione Europea vanno nella direzione giusta oppure non ne potremo venire fuori perché è impossibile che gli piccoli agricoltori possano stare al passo di grandi agricoltori e di sistemi commerciali che strozzano chi produce se non c'è un cambiamento di politiche generali. La conseguenza non la paga solo il cittadino o in primo luogo l'agricoltore stesso, perché il primo ad ammalarsi per i pesticidi sono gli agricoltori. Ma pensiamo alla biodiversità, il famoso discorso dove sono le lucciole, chi ha più visto le lucciole negli ultimi anni? Io a casa le ho, ma non uso pesticidi. Appunto, ma tutto intorno dove usano pesticidi le lucciole non le troverete. E questo io lo uso proprio, venite a casa mia a vedere le lucciole e poi andate intorno dove usano i pesticidi. Qualche motivo ci sarà. Oppure pensiamo alla perdita degli impollinatori. Perdita degli impollinatori vuol dire un disastro ambientale, compreso un disastro economico per l'agricoltura. Negli Stati Uniti arrivano a importare con treni e camion gli alveari in California, dove ormai non sono più impollinatori sufficienti per le famose prugne della California, per varia frutta della California, eccetera. E il posto negli Stati Uniti dove si riesce meglio a allevare le api è il centro di Manhattan. Sembra assurdo, ma è così. Lì non ci sono pesticidi. In cima ai grattacieli funziona bene, ci sono apicultori nel centro di Manhattan. Quindi tenete presente anche come immaginario cosa significa. Beh, quindi il numero di insetti in netto declino e se noi continuiamo di questo passo la biodiversità andrà sempre peggio perché ricordiamoci che la perdita di insetti vuol dire la perdita di tutta la catena alimentare collegata agli insetti. E se gli insetti vengono inquinati e sono mangiati da uccelli, eccetera, eccetera, poi abbiamo tutta la catena. Ma l'agricoltura è responsabile anche di una alterazione dei suoli pesantissima, una situazione per cui l'Agenzia Europea per l'Ambiente parla di desertificazione della pianura padana non perché c'è il deserto ma perché c'è un'agricoltura intensiva e di tipo industriale. Ci sono posti dove si fa mais da adesso, sì, hanno deciso adesso l'Unione Europea ha deciso che non si potrà più fare che bisognerà fare veramente vedremo come se non ci saranno le solite deroghe ma anche lì è una cosa improvvisata o si programma in una maniera più seria ma non è che di colpo in bianco tu dici adesso non fai più questo e ci deve essere un coinvolgimento degli agricoltori in maniera adeguata per un reale cambiamento. Ecco, credo che da questo punto di vista fondamentale è realizzare un'alleanza tra cittadini piccoli agricoltori e coloro che vogliono difendere l'ambiente associazioni ambientaliste associazioni come la nostra cioè creare una unione in cui non viene visto come colpevole l'agricoltore ma l'agricoltore d'accordo con i cittadini individua non quello che deve fare secondo le multinazionali ma ciò che è giusto fare in rapporto con i cittadini che si impegnano però ad acquistare direttamente evitando l'intermediazione parassitaria dei grandi supermercati che stanno strozzando l'agricoltura e quindi qual è il risultato? Che sempre meno avremo piccoli agricoltori ma questo è un disastro perché in realtà anche in Italia come in gran parte del mondo ciò che sfama il mondo è l'agricoltura contadina e l'agricoltura di sussistenza conta molto di più garantire un aiuto all'agricoltura di sussistenza nel sud del mondo e cioè produrre cibo prima di tutto per coloro che producono cibo per la comunità intorno a dove si produce per il villaggio e non cibo esclusivamente per un commercio globalizzato mondiale dove gli sprechi di cibo sono giganteschi e la distruzione del territorio è senza fine ma altrettanto vale in Europa e in particolare in Italia perché in Italia? Perché in Italia rispetto al resto d'Europa abbiamo ancora una gran quantità di piccoli agricoltori e difendere questi piccoli agricoltori è fondamentale per avere un cambiamento a livello di politica agricola in modo tale che si crei quella coalizione agricoltori cittadini per produrre cibo sano rispettando l'ambiente mantenendo la biodiversità in pratica come mi suggeriva nei suoi appunti che mi ha dato Carlo Modonesi la domanda è ma cos'è la sostenibilità? Esiste la sostenibilità? Beh se per sostenibilità si intende l'efficienza produttiva non c'è sostenibilità l'efficienza produttiva viene a scapito del territorio della biodiversità pensate appunto perché oggi la pianura padana è desertificata perché il continuo utilizzo di fertilizzanti di sintesi la tendenziale perdita di disponibilità di acqua la siccità che abbiamo avuto e che avremo in futuro sta trasformando gran parte del territorio agricolo in un materiale cioè il terreno è polverulento si perde la materia organica non c'è materia organica allora questo si cambia solo se gli agricoltori sono in grado di produrre d'accordo con le comunità con i cittadini nel rispetto dell'ambiente ma avendo la garanzia di guadagno perché non si può pretendere che l'agricoltore faccia delle cose giuste rimettendoci lui di tasca sua ecco tutto questo o è una politica intanto incominciamo a praticarla e poi bisogna pretenderla come politica dell'agricoltura comunitaria e sottraendo soprattutto questo importante patrimonio di piccoli agricoltori al controllo delle multinazionali agrochimiche e al controllo della grande distribuzione parassitaria che gli sta strozzando economicamente io ho finito la mia introduzione l'ho fatta anche troppo lunga ma vorrei vorrei adesso dare la parola domando se c'è Natalia Svartan che è rappresentante di Pesticide Action Network Pang Yu che dovremmo anche fare una traduzione dell'intervento vediamo se Natalia good evening can you hear me yes can you please stop any three four minutes in order to allow the translation of course sure okay good evening everyone buona sera a tutti thank you for having me here I'm Natalia Svartan from Pesticide Action Network Europe from Brussels we are always happy to participate in the events of our dear members so I will say a few words about the draft proposal on sustainable use of plant protection products si è presentata e ci dirà ci ringrazia e ci dirà alcune parole sul draft diciamo sull'agricoltura sostenibile 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 thank you I will share now my presentation with you let's see if it will work oh I'm sorry host disabled participant screen sharing I don't know if you can enable for me to share one moment sure well I will talk about the regulation and I will talk about the policy so maybe it will not be super interesting to everybody but I assure it's a very important piece of legislation I will try now sharing ok perfect it works yes they are proceeding with the condivision you can do that let's see for some reason it doesn't work here it is the green the green button on the oh no this is yes it is no okay let's see if you can see this yes okay okay this is let me please tell me if the slides are moving no for you slides are not moving for you yes can you please confirm that slides are now moving because I'm going through slides yes yes okay okay thank you I apologize probably okay so pesticide action network Europe is a European branch of pesticide action network and in Europe we have 49 organizations and we are engaging in work with European commission European parliament and the council to achieve the strongest regulation possible yes this is a pesticide action network of Europe network can you please wait is the european european that has 60 nations in the world E mette insieme salute, ambiente e organizzazione dei consumatori e lavora per sostituire l'uso di pesticidi dannosi con alternative ecologiche e si impegna nell'advocacy, nell'analisi delle politiche, nel networking e nelle attività di campagne. Sì, puoi proseguire. So, Sustainable Use Regulation will replace the existing directive on sustainable use of pesticides, which was shown to be lacking because there was no sufficient implementation of provisions by member states. And now, Sustainable Use Regulation aims to protect citizens and the environment from the effects of pesticides by reducing the use and the risk of chemical pesticides, and to increase the application of the true integrated pest management, which reduces the pest occurrence and consequently reduces the need to use synthetic pesticides. Dunque, gli obiettivi sono ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi clinici, in particolare quelli che contengono le sostanze attive più dannose e più rischiose. Aumentare l'applicazione e la messa in atto della gestione integrata dei pesticidi protegge i cittadini e l'ambiente dagli effetti dannosi dei pesticidi. So, I will tell you the most about the current state of the legislation, but I would just like to talk about the I would like to say a few very important things from the past, and that is that this proposal was heavily attacked by the Conservatives at the Parliament and first the publication was postponed because the war in Ukraine started and then they in every chance used the food security argument to water down the strong provisions that actually assure the reduce of pesticide application. And this year the war is now no longer so exposed, but now it's the climate aspects, floods and droughts and other things that are used to water down the provisions of this important regulation. Ovviamente il draft è stato pesantemente ostacolato, è stata postposta la pubblicazione per la guerra in Ukraine e è stato fatto tutto quello che era possibile per ostruire il lavoro sulla food security e mettere in evidenza altri aspetti tipo il climate change, il flooding e la siccità. You can go on. Yeah, so obstruction is done in many ways and one of the things that really slowed down the work on the regulation was the request to commission to submit the additional study to the existing impact assessment. And in December last year the proposal was adopted and the commission published the impact assessment in July this year. And in addition to that EPP, MEPs, Members of the European Parliament of the Conservative Party, they tabled huge number of amendments that really slowed down the work on the regulation. Ovviamente c'è stato un pesante ostacolo e come al solito è stato utilizzato l'argomento di volere ulteriori studi scientifici sull'argomento, quando quegli studi scientifici sono stati dati, sono stati fatti un enorme numero di interventi, 3.000 interventi che hanno ovviamente ostacolato l'avanzamento. Davanzamento, you can go on. So here is just another example, the study made by Le BASIC organization, where they showed that actually citizens, EU citizens, taxpayers, are paying the damage that pesticide industry is causing to the environment and to the health of citizens. This is 2.3 billion of euros and this is paid by water companies purifying water, by mitigations to annul the damage done to the environment and of course all the medical costs for diseases caused by pesticides. So you can see, here is the link to this MOG webpage. They did a research on the links of the members of the parliament to the industry. Very interesting. You can check it. I will move on. So we are not, I don't talk too much. I will move on. I will move on. I will move on. I will move on. You can go. Yeah. So this is the timeline. What is happening? So important things is that Spanish presidency is not putting this file high on the priority list. We have only four meetings in their presidency, which is really bad. These are those blue checked meetings and this is where member states are discussing this file. So important discussion was held on 14 September on sensitive areas where they tried to change the definition of sensitive areas. of course, trying to watering down and also the there was a meeting on 16 of October on indicators and on targets and Spanish presidency table. They presented questions and also 11 member states opposed to binding targets on the national level. You can go. So the next meeting will be on 16 of November agenda. And we still don't know, but they promised to finish the file until December. And if this is done, then the trial can start trial office where commission and parliament and council sit together and trying to reach the compromise. But the intel we got is that the file will not be finished by December. The next meeting will be on 16 November. The agenda will still know. Yes. The date is, the date is, the Council meeting in December. But the date is in December. E alla fine ci sarà una discussione a livello del Parlamento europeo e della Commissione europea, ma lei ha manifestato un certo scetticismo. Ma lei ha manifestato un certo scetticismo. Sì? Abbiamo grandi sperimenti sulla presidenza belgiana, perché speriamo che il Davide abbia aperto il capo sull'integrazione del gesto integrato, che al momento in cui il Consiglio è concluso di essere non-binding. E' male perché in questo caso nessuna riduzione di pesticida. Ok, puoi continuare. Sì, due importanti scelsi nel Parlamento sono stati passati, l'Agricolò del 9 ottobre, questo è stato molto pieno perché un articolo che provides fondamentale per aiuta ai piani a transire nell'agroecologia in systems più safe e sostenibili, è stato lasciato dall'Agricolò. Dunque c'è stato un incontro nel Parlamento non buono in cui praticamente è stato concesso un sostegno ai farmer, cioè agli agricoltori. No, agli agricoltori, scusa, farm. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, puoi andare. Sì, quindi i problemi principali del Parlamento sono che i Stati membri e i MEPs sono obbligati i target di riduzione nazionali e a loro calcolazione. Quindi i Stati membri hanno i target di riduzione diversi, l'Italia è a 62%. Dunque i Stati membri si oppongono alla riduzione, i target per l'Italia sono dal 35 al 65, al 62%. Sì, sì, da 2%. Quindi il 35 e 65 sono in generale per le altre nazioni, mentre invece per l'Italia il target è molto... Sì, quindi il rischio di armonizzare è il più grande rischio di questo file, perché al momento, come è, il rischio di armonizzare è che il rischio di armonizzare più rischio di armonizzare attività utilizzata in agricoltura organica che quelle che sono veramente tóxiche, come per esempio i fungicidi. Questo indicatore deve essere migliorato. Dunque, un aspetto molto, diciamo, importante è il calcolo della metodologia della riduzione del rischio, perché alcuni indici non la calcolano accuratamente. Cioè, diciamo, indici teorici, ma non che non la calcolano in pratica. Ok? Quindi, molti membri del Parlamento chiedono per il riempimento dei pesticidi sintetici, ma non vogliono ascoltare il nostro messaggio che solo il vero integrato pest management, iniziando con le mesi preventative, e poi continuando con le prevenzioni fisiche e le meccaniche di prevenzioni di rischio di rischio, e poi la biocontrol, e poi la loristica di active substances, dovranno precedere l'uso di pesticidi chimici. non vogliono accettare la loro indicazione di eliminare i pesticidi chimici e utilizzare altri tipi di interventi. Quindi, qui ci sono altri problemi, la definizione delle aree sensitive. Potremmo potresti leggere, solo per spiegare. La definizione di aree sensitive delle zone neutrali di ammortamento intorno alle aree sensitive, in modo tale che non si diffonda. un sistema di consiglio di indicazioni indipendenti a supporto degli agricoltori, degli sostegni sulla salute occupazionale e non occupazionale, e dei diritti di sicurezza per le persone che ci sono impiegate, per i lavoratori. La informazione pubblica è disponibile, il principio di precauzione passa, cioè il principio che l'inquinatore paga. Ok. Ok, quindi, stiamo coinvolgendo gli cittadini del EU nella nostra guerra. E abbiamo recentemente pubblicato un rapporto dove è chiaro che gli cittadini del EU vogliono riduzione di pesticidi perché sono preoccupati per la loro salute e la salute delle famiglie. Questa è una survey che è stata fatta che indica che i cittadini vogliono questo cambiamento. Sono preoccupato circa come i pesticidi vengono utilizzati nell'agricoltura e nella produzione del cibo e, diciamo, causa un danno alla mia salute e alla salute della mia famiglia. Come voi vedete, quelli che fermamente assumono questo punto di vista sono il 76%. Quindi la grande maggioranza delle persone è preoccupata per la propria salute e per la salute della propria famiglia rispetto, diciamo, all'uso dei pesticidi. Li vedete la differenza nelle varie nazioni, che è anche interessante, in Romania dell'84%, in Polonia dell'80%, in Spagna dell'80%, in Francia del 78%, in Danimarca del 72%. Quindi, diciamo, con una grossa variabilità ma la media è elevatissima. Quindi i cittadini chiedono un cambiamento di passo. Ok? Grazie. So, I will skip the next slide. You can see, you can search on our webpage, Plate Safe Report, where you will see also other results. I will skip because I'm really late. And I just want to finish that pesticide reduction has a strong support from EU citizens, which was proven in ECI Safe Bees and Farmers, on Eurobarometers, and on the Conference of the Future of Europe. Come vedete c'è un forte sostegno dei cittadini dell'Unione Europea, un milione e uno dei cittadini europei chiedono un'Europa libera dai pesticidi. Grazie. Thank you very much and thank you for your patience. Thank you. Thank you for your interpretation. Thank you. Thank you for your interpretation. No , No. No, do not attend sound. No, no. No, no, eh. No, e come va bene. Dicevo è molto importante rendersi conto che, si parlava prima del ECI, cioè Iniziativa Europea dei cittadini, che con un milione di firme chiedono alla Commissione di intervenire. È l'unico modo che c'è a livello europeo per indirizzare le politiche comunitarie direttamente dal basso. Purtroppo quasi sempre la Commissione ha ignorato le altre iniziative dei cittadini, speriamo che questa volta invece magari rispettino la volontà. Passiamo al secondo intervento, in questo caso è il dottor Enrico Veschetti che è qui presente dell'Istituto Superiore di Sanità. Sì, grazie. Allora, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito. Per me ovviamente è un piacere poter condividere quello che noi stiamo facendo all'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione ovviamente con altri enti di ricerca nazionale sul settore dei pesticidi. Io in particolare in questa presentazione vi parlerò dei pesticidi nelle acque nazionali, sono tutti dati ufficiali che potete trovare già pubblicati, quindi sostanzialmente io ho cercato di assemblare le varie slide in modo da darvi una panoramica della situazione. Gentilmente se può passare alla successiva. Allora, incominciamo innanzitutto con quelli che sono i dati sulla vendita dei prodotti fitosanitari e dei principi attivi che sono contenuti in questi prodotti. Allora, questi sono dati che sono stati resi disponibili dall'Istat nel 2020 e sono relativi al periodo che vanno dal 2011 al 2020. Allora, nella prima diapositiva vedete sostanzialmente qual è il tasso, diciamo con ovviamente delle oscillazioni annuali, di decremento delle vendite dei pesticidi. Siamo praticamente a una riduzione del 15% rispetto al valore di 140.000 tonnellate che avevamo nel 2011. Lo stesso decremento, più o meno lo stesso decremento, un 20%, lo abbiamo avuto sui principi attivi che sono presenti in questi prodotti. Ora, se andiamo a scorporare questo dato che è aggregato tra i vari principi attivi per categorie, vediamo che ovviamente la parte del leone lo fanno i fungicidi che ovviamente anche in questo caso hanno subito in modo altalenante una riduzione, diciamo che comunque ricalca sostanzialmente i dati che abbiamo visto. Le altre categorie impattano ovviamente una misura nettamente inferiore, in alcuni casi abbiamo avuto delle oscillazioni. Se ad esempio vedete la parte dei vari, sostanzialmente non c'è stato un vero decremento. Con vari si intendono tantissime sostanze, che poi vedremo nelle successive slide, che possono avere anche una tossicità che al momento non è stata ancora compresa nella loro interezza. Quindi sostanzialmente noi spesso e volentieri facciamo riferimento a delle sostanze canoniche che sono state utilizzate in passato e che purtroppo ancora stiamo ritrovando poi in varie matrici ambientali, oppure in quelle che sono attualmente più in uso. Ora vedete elencate le sostanze più vendute, intese quelle che superano le mille tonnellate annue, nel triennio che va dal 2018 al 2020. In particolare quelle marcate in rosso sono quelle non monitorate, pur essendo classificate pericolose. Quindi sostanzialmente queste non rientrano nella categoria poi che vedremo successivamente per le analisi. Vi segnalo anche che tra l'altro c'è il manco ZEP che non è più utilizzato dal 2021, ma che ovviamente si ritrova adesso nelle matrici, perché prima che verrà smaltito occorreranno decine e decine di anni. E nell'ultima rappresentazione abbiamo la distribuzione dei prodotti fitosanitari per tossicità. Sono praticamente tre le categorie, molto tossico e tossico sono quelle indicate in rosso, nocivo sono quelle in viola, non classificabile al livello diciamo di, almeno per quanto se ne sa, perché poi in realtà anche qui i dati non sono diciamo completi, quelli ovviamente in grigio. E vedete il tasso di riduzione sempre passando dal 2011 al 2020, che ovviamente è stato più marcato nel caso della categoria molto tossico e tossico. Ancora, continuando con i dati ISTAT relativi alla vendita dei principi attivi, in questo caso li possiamo classificare per unità di superficie agricola utilizzata. Che cos'è questa superficie agricola utilizzata? La SAU è la somma di tutte le superfici e i terreni destinati alla produzione agricola. Intendiamo le aree seminative, le coltivazioni legnose agrarie, gli orti familiari, i prati permanenti e i pascoli. Quindi se sommiamo tutta quest'area, questa rientra nella SAU. Ora possiamo calcolare un rapporto che potrebbe in qualche modo indicare la pressione sul territorio. Quindi questo è già un indice che può essere interessante, cioè il rapporto tra le vendite e il SAU. Se andiamo a vedere nel diagramma in alto, vediamo che il maggior impatto lo si ha soprattutto nel nord e ovviamente in altre regioni. L'Italia si colloca sostanzialmente su 4,4 kg di principi attivi venduti per ettaro di SAU. E come vedete praticamente abbiamo l'impatto maggiore al nord che è 6,8, questi sono i dati ovviamente aggregati. Centro, sud e isole più o meno è lo stesso valore. Ora questo indice che comunque ci dà un'indicazione sulla pressione del territorio, però ha delle limitazioni che sono state ampiamente riconosciute. Cioè non indica praticamente l'uso, l'intensità e la frequenza dei trattamenti in un'aria. Quindi in realtà va sempre comunque preso come con le pinze, ma comunque è diciamo un'informazione in più che ci può dare per interpretare poi i dati. Ora i dati delle vendite sono ovviamente quelli più completi, per cui queste sono informazioni interessanti. Adesso poi vedremo nelle successive slide, dopo questa, invece quello che si ritrova poi nell'ambiente, in particolare nelle acque. Allora io qui vi ho riportato il quadro normativo a livello europeo, sono tutti direttive e regolamenti che sono state recepite nella normativa nazionale. Partiamo dal primo regolamento che è l'1107 del 2009, che sono le norme per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che prevedono una valutazione del rischio per la salute umana, la salute animale e l'ambiente prima che queste sostanze vengano immesse sul mercato e ovviamente prima dell'utilizzo. Ovviamente quando diciamo questo regolamento è stato emanato, teneva conto di una serie di criteri di valutazione che nel tempo si sono resi sempre più complessi, perché sono state scoperte, cioè gli avanzamenti scientifici hanno consentito ovviamente di mettere in evidenza in luce degli aspetti che prima non erano presi in considerazione. Quindi il regolamento ovviamente dà una serie di indicazioni che però sono in continua evoluzione. Abbiamo poi la direttiva 2009-128 che riguarda praticamente l'uso sostenibile dei pesticidi, in modo particolare descrive tutte le azioni preventive a vari livelli di intervento. Poi passiamo invece a quello che è l'utilizzo, cioè il regolamento 396 del 2005 che fissa dei limiti massimi dei residui nei prodotti di origine vegetale e animale che sono destinati al consumo umano. Tutto questo viene ovviamente fissato tenendo conto dei modelli di calcolo di rischio acuto e cronico e che ha dato luogo ovviamente a un database comunitario relativamente ai limiti massimi di queste sostanze che possono essere presenti nei prodotti di origine vegetale e animale. Poi alla fine abbiamo due normative molto importanti che sono un po' l'impatto sulla risorsa idrica. L'ultima che è la direttiva quadro, che si è declinata ovviamente con una serie di direttive sorelle come vengono chiamate a livello europeo e in particolare la direttiva 28-105 che è quella per gli standard di qualità ambientale per le acque superficiali e la direttiva 26-118, la corrispondente per le acque sotterranee. Tutto questo poi tiene conto invece dell'ultima direttiva sulla quale noi stiamo lavorando in modo intenso che è la 2020-21-84 che è appunto quella più recente che ha sostituito la direttiva 98-83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e in questo caso si fissano dei limiti per quanto riguarda la presenza del singolo pesticida e della somma dei pesticidi che si possono ritrovare all'interno di un'acqua che sono rispettivamente 0,1 e 0,5 microgrammi di litro. Passiamo adesso invece a quelle che sono le attività di monitoraggio sul territorio nazionale. Ora in questa slide vedete rappresentate rispettivamente per le acque superficiali e per le acque sotterranee ovviamente relativamente al dato 2020-2020 quello che sono le attività di monitoraggio che vengono svolte regolarmente dalle regioni province autonome tramite ovviamente i laboratori pubblici dell'ARPA e delle APPA. Sostanzialmente questi laboratori sono incaricati ufficialmente di effettuare il monitoraggio sul territorio e vedete com'è la distribuzione dei punti di monitoraggio. Uno dei problemi purtroppo che viene spesso riscontrato perché questi sono tutti dati che poi ISPRA ottiene periodicamente dalle singole regioni e qui che sono obbligate a comunicare ovviamente questi dati per poter fare le analisi aggregate e poi trasmetterle anche a livello europeo. Uno dei problemi purtroppo che si riscontrano è che in alcuni casi alcune regioni non rispondono. Un esempio è nel biennio 2019-2020 la Calabria non ha fornito alcun dato e per quanto riguarda invece la Puglia i dati sono solamente relativi a quelle delle acque sotterranee. Quindi sostanzialmente, no scusate, delle acque superficiali, mancano le acque sotterranee. Per cui ovviamente ci possono essere dei buchi in questa rappresentazione che ovviamente non consentono di avere il polso completo della situazione nazionale. Però quello che c'è da dire è che se confrontiamo le attività che sono state svolte dal 2011 al 2020 sia per le acque superficiali che per le acque sotterranee c'è stato un progressivo miglioramento nella ricerca, nell'attività di monitoraggio in termini di incremento dei punti di monitoraggio, del numero dei campioni presi per punto di monitoraggio e quindi del numero dei campioni totali e delle sostanze cercate. Questo è molto importante perché il settore dei pesticidi è un settore in continua evoluzione. Ogni anno vengono sfornati nuovi principi attivi. Quindi ovviamente è importante riuscire a intercettare nelle matrici ambientali e in particolare nelle acque la loro presenza. Ora, allo Stato... Prego? Allora, nel 2020 abbiamo avuto il cosa? Abbiamo avuto il Covid. Questo è il problema. Infatti stiamo aspettando il 2021-22 che sicuramente ci sarà l'incremento. Il 2020 purtroppo è stato un disastro per tutte le attività. Qui non tenete conto proprio dell'ultimo anno perché quella è stata, diciamo, una cosa particolare. Allora, sostanzialmente allo stato attuale sono circa 406 le sostanze ricercate però vi segnalo che 38 dei quali già si conosce l'elevata pericolosità non vengono ricercate. E la domanda potrebbe essere perché non vengono ricercate? E' perché, diciamo, ricercare una varietà così elevata di sostanze chimiche è un lavoro estremamente sfidante per i laboratori analitici perché devono utilizzare delle tecniche costosissime non tutti i laboratori sono attrezzati per poter fare questo tipo di indagini e in più bisogna mettere a punto dei metodi che siano ovviamente poi accreditati perché se il metodo, diciamo, non ho delle sostanze di riferimento le strumentazioni non sono state tarate, calibrate opportunamente i metodi sono stati verificati, rischio di dare ovviamente dei numeri che non hanno un significato scientifico. Per poter far questo occorrono ovviamente mesi e mesi di lavoro per ogni nuova sostanza che viene prodotta. In pratica l'industria fa prima a sfornare nuovi principi e ovviamente poi c'è una rincorsa affannosa a introdurre queste nuove cose. Tenendo poi conto che ovviamente sono analisi costosissime per cui occorre pure dei finanziamenti pubblici per poterle ricercare perché altrimenti, come si dice, senza soldi non si canta messa. Questo è un po' il discorso. Ora, qui vedete sostanzialmente la densità dei punti per unità di superficie utilizzata che sono stati ovviamente monitorati, diciamo, per le acque superficiali e per le acque sotterranee. Adesso vediamo invece i risultati di tutte queste attività che è la parte forse che ci interessa di più. Allora, innanzitutto partiamo dalle sostanze che sono state più trovate. Se le dividiamo nelle tre categorie, cioè gli erbicidi, i fungicidi e gli insetticidi, li vedete rispettivamente verde, rosso e blu, con ovviamente quei spicchi più chiari che rappresentano i metaboliti che sono addirittura poi le sostanze più numerose e più pericolose che si possono sviluppare, perché sostanzialmente le sostanze madre si decompongono, però si decompongono non completamente, forno dei metaboliti e delle volte i metaboliti sono più attivi della sostanza iniziale. Beh, vedete che la parte del leone, nel caso delle acque superficiali, la fa gli erbicidi che sono all'incirca, tra erbicidi e metaboliti, degli erbicidi sono il 43%, nelle acque sotterranee addirittura arriviamo al 50%. Ecco, se invece andiamo a suddividere questi diagrammi che rappresentano un po' le categorie in uno spaccato che rappresentano i singoli composti che sono quelli più ritrovati, come vedete per quanto riguarda le acque superficiati abbiamo il glifosato, glifosato diciamo in inglese, il metalacloro e l'ampa. Lampa è un metabolita del glifosato e l'ampa diciamo prevalentemente è un metabolita, poi vedremo che in realtà può avere altre origini ed è per questo che spesso si ritrova anche molto di più rispetto a quelle che sono le stime teoriche. Questo nel caso delle acque superficiali, nelle acque diciamo sotterranee ancora ritroviamo i metaboliti della trazina che sono state ormai diciamo, la trazina è stata messa al bando ormai da diversi anni, però nonostante questo quel tipo di metabolita è molto resistente, e quindi continua ovviamente ad affliggere diciamo gli acquiferi sotterranei che ovviamente sono poi quelle che possono essere captati ai fini idropotabili, anche le superficiali comunque rientrano in questo discorso. Allora, se vogliamo un attimo dare una rappresentazione grafica dei livelli di contaminazione, tenendo però sempre presente che ci sono alcune regioni che non comunicano tutti i dati e abbiamo detto Calabria addirittura è stata completamente latitante nel biegno di riferimento e diciamo la Puglia non ha comunicato i dati sulle acque sotterranee, però tenendo conto diciamo più o meno della contaminazione che è stata utilizzata, come vedete praticamente ovviamente abbiamo per le acque superficiali diciamo superiori ai limiti di accettabilità sono tutti quei puntini rossi che sono abbastanza distribuiti lungo il territorio, ovviamente sulla parte della pianura padana ne abbiamo una concentrazione maggiore per due motivi, sia perché se ne usano di più, sia perché diciamo al nord fanno le analisi con una frequenza più elevata usando strumentazioni diciamo estremamente costose, per cui ovviamente chi cerca trova, insomma questo è sostanzialmente il motivo, però probabilmente è una figura che non dà una reale situazione su tutto il territorio nazionale, probabilmente se fosse possibile utilizzare lo stesso sforzo che viene utilizzato al nord anche nelle altre regioni sicuramente il numero di punti rossi aumenterebbe anche diciamo al centro e al sud. Vedete ovviamente una situazione un po' più diciamo blanda per quanto riguarda i livelli di contaminazione per le acque sotterranee e sostanzialmente se facciamo i calcoli aggregati rispetto ai punti di monitoraggio circa il 31% dei punti monitorati avevano diciamo per quanto riguarda le acque condizioni superficiali delle concentrazioni al di sopra degli standard di qualità, per cui al di sopra di quelli che erano i limiti imposti dalle normative europee e nazionali. Sì prego. Sì 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 no no ma allora assolutamente però infatti ho fatto una premessa allora la Calabria non ha proprio risposto almeno per quanto riguarda quel bienio, poi gli altri ovviamente bisogna andare a vedere le altre cose. Io ovviamente mi riferisco all'ultimo bienio perché sono gli ultimi dati ufficialmente disponibili, adesso stiamo attendendo i successivi. Però come già ho anticipato alcune regioni rispondono però non fanno analisi a 360 gradi come lo fanno ad esempio diciamo in Lombardia o in altre regioni diciamo del nord, in particolare la parte centrale del nord. Questo purtroppo è un altro problema per cui questi dati in qualche modo indicano che c'è un problema ma non è una reale rappresentazione della distribuzione nazionale. Questo è una cosa che ci tenevo in qualche modo a sottolineare. Infatti questo è uno dei diciamo dei problemi che bisognerà risolvere nel futuro cioè investire di più per cercare di ottenere dei dati che siano più rappresentativi anche a livello nazionale perché finché non si conosce il problema ovviamente poi non si può attuare una reale politica per la difesa della qualità delle acque. Scusi, come è che a quasi la metà dei dati, dei rilievi di acqua interoficiali, addirittura quasi l'80% di quelle sottolineare non sono quantificabili? Cioè l'hanno fatto in maniera inesatta, in maniera inconserata? No, 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 no. Quando si dice non quantificabili vuol dire che sono al di sotto del limite di quantificazione, cioè sono state fatte le analisi però il valore è inferiore al limite di quantificazione. Limite di quantificazione vuol dire, allora in chimica analitica la parola assente non ha alcun significato però è l'equivalente e l'assente, si dice non rivelabile. Sono i dati migliori ovviamente, sì sì no questo è diciamo il significato di quel termine. Allora poi passiamo invece a un altro problema molto importante, adesso abbiamo visto le contaminazioni da un singolo diciamo pesticida, però il problema è quando ne abbiamo diversi, perché ovviamente nel caso diciamo di miscele posso avere effetti diciamo sinergici, antagonisti diciamo è abbastanza raro o additivi. Questo è un po' il discorso. Questo aspetto è ovviamente oggetto di studio a livello nazionale e internazionale dai vari esperti, però tenete conto che è un cocktail molto complesso di tante sostanze, questi studi richiederanno tantissimi anni e poi si sta tentando di trovare dei modi per poter ottenere ovviamente dei dati aggregati. Allora quello che volevo farvi notare è che noi addirittura in alcuni casi si possono ritrovare fino a 32 sostanze o diciamo metaboliti di quelle sostanze per quanto riguarda le acque sotterranee e 31 per quanto riguarda le acque superficiali. Ovviamente non tutti i siti ne conterranno così, vediamo sostanzialmente la distribuzione, in media possiamo dire che se ne ritrovano 4,3 sostanze diciamo attive di questa categoria nelle acque superficiali e 2,9 nelle acque sotterranee e lì vedete la distribuzione, ovviamente al solito quel viola è dove se ne trovano più di 20, poi abbiamo il rosso tra 11 e 20, arancione tra 2 e 10 e blu una sola sostanza e questo ovviamente per entrambe le situazioni. E come vedete insomma la situazione è un po' preoccupante perché in alcuni casi troviamo diverse sostanze per sito di campionamento, quindi per punto di prelievo. Ora questa è l'ultima slide con la quale diciamo vi do un attimo delle indicazioni su quelle che sono le sostanze che più superano gli standard di qualità ambientali, le vedete rappresentate diciamo in questi due diagrammi, ovviamente rispettivamente per le acque superficiali e per le acque sotterranee, in particolare ovviamente il glifosato e l'ampa che è appunto il suo metabolita, però ecco l'ampa oltre a essere metabolita e il glifosato può essere generato anche dalla degradazione di altri composti fosfonati che vengono utilizzati nell'industria tessile, nell'edilizio, nel chimico oppure vengono addirittura rilasciati dai depuratori dei reflui, cioè quando entra un composto fosfonato che oggi viene utilizzato ad esempio come sostituto dei composti azotati che venivano una volta messi nei detersivi, sapete questi non possono essere più utilizzati perché per il problema dell'eutrofizzazione, però qualcosa bisogna metterci perché i tensi attivi non saponificano, cioè non sono in grado di fare il loro lavoro di ponte tra la macchia e l'acqua perché hanno una testa polare, una testa polare che fa questo lavoro, non sono in grado di fare questo discorso se c'è durezza nell'acqua e molte acque ovviamente hanno la durezza e quindi si potrebbe risolvere il sistema mettendo degli addolcitori, delle resine addolcitrici all'interno delle lavatrici così come lo si fa per la lavastoviglia, però ovviamente l'elettrodomestico costerebbe molto più, diciamo avrebbe un costo molto più elevato. Allora per evitare questo discorso hanno messo dei complessanti, cioè che bloccano il calcio e il magnesio e lasciano al tensio attivo di svolgere la propria attività. Tra questi ci sono i fosfonati, i fosfonati una volta che entrano nel ciclo dei depuratori dei reflui generano AMPA che ovviamente ha una sua tossicità che si aggiunge a quella che è prodotto dal glifosato. Quindi delle volte si dice AMPA metabolita del glifosato, sì è vero ma attenzione c'è tante altre origini che possono essere anche diciamo più impattanti del glifosato stesso. Ovviamente una volta ottenuto l'AMPA la sua tossicità è quella, perché la molecola è quella, quindi indipendentemente dall'origine insomma. Poi abbiamo le triazine e i metaboliti, ad esempio abbiamo detto la trazina, la trazina è stata messa in bando però i metaboliti e la trazina si ritrovano ancora a concentrazioni elevatissime soprattutto nelle acque sotterranee. Poi abbiamo i neonicotinoidi. No, allora si trovano un po' diciamo in tutte le regioni, in particolare nel nord Italia perché sono percolate in profondità. Questo è sì perché venivano utilizzate, poi il problema è che sono state commesse degli errori anche a livello impiantistico perché sono state fatte delle perforazioni profonde senza incamiciare le tubazioni. Per cui hanno messo in comunicazione le falde più superficiali con quelle più sotterranee e sono arrivate fino a 300-400 metri di profondità come contaminazione, cosa che non sarebbero mai arrivati per semplice percolazione. Quindi questo delle volte anche errori diciamo gestionali nella creazione dei pozzi hanno poi determinato, perché poi una volta è contaminata una falda idrica per recuperare, come nel caso dell'atrazzina insomma servirà qualche secolo insomma, quindi non è una cosa semplice anche perché c'è un ricambio molto lento e la degradazione di queste sostanze è molto bassa, il tipo di flora microbica non è tale da poter aggredire questi metaboliti eccetera eccetera eccetera. Insomma ci sono tantissime situazioni che poi ne favoriscono ovviamente la permanenza. Allora tornando alla terza categoria, queste sono molto importanti per quello che si diceva prima, cioè sono praticamente causano la perdita di biodiversità, tant'è vero che ultimamente sono state messe volutamente dall'Unione Europea nella watch list, la watch list sono le diciamo quelle liste di osservazione dalle quali poi derivano eventuali limiti successivi se è il caso, perché c'è il rischio di moria delle api, proprio perché sostanzialmente agiscono pesantemente sulle api. Poi ovviamente abbiamo altre sostanze, insomma le vedete qui elencate, la particolarità di questi erbicidi che hanno proprietà PBT, cioè sono persistenti bioaccumulabili e tossici. Quando hanno questa caratteristica qui PBT ovviamente bisognerebbe cercare di evitare il loro utilizzo, però diciamo si sta tentando piano piano di metterle al bando e ovviamente servono delle evidenze molto forti perché come potete immaginare l'industria poi si oppone ovviamente a queste azioni. Però quando si arriva a delle diciamo evidenze a livello europeo, a questo punto l'Unione Europea le mette a bando, poi c'è un periodo perché è chiaro messa al bando poi bisogna dare comunque il tempo di smaltire le scorte, comunque questa roba è persistente quindi me la ritrovo per i prossimi 50 anni, loro o i suoi metaboliti. Questa è un po' la situazione. Una cosa positiva però che c'è da dire, questa ovviamente è la situazione sulle acque diciamo superficiali e sotterranee così come sono. Le acque che noi utilizziamo ai fini idropotabili che derivano da queste tramite processi di potabilizzazione, fortunatamente i processi di potabilizzazione sono in grado di intercettare la stragrande maggioranza di queste sostanze. Oggi poi abbiamo messo a punto delle tecniche non target che significa che non andiamo a cercare solamente alcune sostanze ma cerchiamo il più possibile di vedere uno spettro di massa cioè una rappresentazione, una fingerprint, un'impronta digitale di tutte le sostanze che possono essere presenti. Quando queste superano un certo livello vengono identificate e quantificate e ovviamente bisogna intervenire, si dà disposizioni ai gestori acque dottistici perché ovviamente possano cambiare i sistemi di trattamento per ovviamente intrappolarli. Io con questo ho concluso. Non vengono ricercate a livello ambientale però in questo screening diciamo dei cosiddetti unknown come viene detto in inglese quindi non identificati diciamo danno un segnale, nel momento in cui danno un segnale supera un certo livello si va a fare una ricerca specifica su quelle. Però non si cercano a livello nazionale per sapere quanto ce n'è nell'ambiente, nelle acque prima che vengano captate. Nelle acque potabili sì, nelle acque potabili abbiamo adesso un sistema di protezione molto molto più spinto che si sta mano a mano sempre più affidando. Scusate, ho più di quattro interventi che sono già... Sì, ok. Scusa, mi sono un po' dilungato. Ah, interessantissimo, è interessantissimo. Scusi una domanda dottor Bertola, scusi una domanda, siccome noi in Veneto abbiamo i PFAS, ho trovato molte analogie, due domande solo. Come fate? Lei dice giustamente dobbiamo correre dietro l'industria, conosciamo questo meccanismo. L'industria, almeno per questi pesticidi, è obbligata a consegnare lo standard di un prodotto quando lo fa o se lo può tenere come brevetto per anni? No, 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 assolutamente. Lo deve consegnare. Ah, vede. È obbligata. Però il metodo di analisi... Il metodo di analisi purtroppo va sviluppato perché, attenzione, quando si parla di metodo di analisi, quando se noi facciamo, non è applicabile il metodo di analisi dell'industria, perché l'industria lavora su quantità enormi. Cercare questo quando le quantità sono piccole, però non sono piccole a sufficienza da non costituire un problema, quindi le devo cercare, però in una matrice molto complessa, è come cercare un ago dentro un pagliaio. Quindi i metodi analitici devono essere in grado di estrarre selettivamente queste sostanze, fare il cosiddetto clean up, cioè levare tutte le interferenze e poi andare allo strumento più appropriato per poterle vedere. Ok, ma capisco la difficoltà. Ma se non ha la matrice, questo è inutile, cioè se non ha lo standard quella sostanza lì... No, no, devono essere per forza fornite. E poi c'è comunque, alcune di queste sostanze vengono reperite direttamente dal mercato, per cui sostanzialmente si parte dal prodotto concentrato. Seconda cosa, mi scusi, bellissimi dati ISPRA. Sì. Voglio dire, ISPRA poi lo comunica al Ministero, il Ministero prende dei provvedimenti in base ai punti di monitoraggio o rimangono finalizzati a se stessi? Perché? Sì, allora, no, il problema è questo. La catena in qualche modo è questa. Innanzitutto è necessario effettuare queste analisi perché sono un obbligo di legge. Facciamo parte di una rete europea, quindi questo viene comunicato alla Commissione europea, entrano in database, ci sono database nazionali e internazionali. Quello nazionale lo potete anche consultare voi se entrate nel sito dell'ISPRA. E quindi tutti quelli che concorrono a produrre questi dati devono dare poi i dati che vengono ovviamente recensiti da ISPRA perché istituzionalmente gli è stato dato questo compito. E noi lo utilizziamo anche per le acque potabili. Sì. Allora, il problema è questo. Lavorare la bonifica ambientale è una cosa estremamente complessa perché quando lei ha la contaminazione di un acquifero ad esempio profondo, perché distinguiamo acquifero superficiale da acquifero profondo, l'acquifero superficiale sarebbe sufficiente non continuare a sversare. Questo sarebbe il discorso, mi sembra evidente. Quindi quello è un lavoro che poi deve essere portato a livello regionale, eccetera, perché ci sono le politiche regionali. Però al di là di questo, un acquifero ad esempio profondo, la persistenza può essere anche di secoli. Questo è il problema. Quindi quello che si può fare invece è da questa conoscenza nell'utilizzo dell'acqua stessa. Cioè se io devo utilizzare, è lo stesso problema dei PFAS, perché noi abbiamo affrontato pure questo problema e abbiamo supportato anche le varie regioni. Perfetto. In caso ne parliamo poi magari se parla da sete. Sì, allora, grazie intanto perché ci ha fatto esplorare un mondo e ci ha tolto l'acqua dalla gola. Ma una comunità, un esempio concreto, una comunità vuole sapere che acqua beve. Può essere un quartiere, una zona. Allora, va dall'ARPA di turno, quella della zona, e chiede in questo caso, se ho capito bene, come fa a sapere se c'è o non c'è dei pesticidi anche non ben identificati. C'è una matrice, un punto, o meglio una matrice, una serie, una formula chimica che venga individuata come elemento sentinella della presenza di, diciamo, di uno di questi inquinanti? No, si può o non si può? Allora, la risposta è brevissima. La risposta è brevissima. Noi come Centro Nazionale per la Sicurezza dell'Acqua, CENZIA, che è l'acronimo, stiamo sviluppando un database che si chiama ANTEA, Anagrafe Nazionale Territoriale sulle Acque, che sarà consultabile innanzitutto ovviamente dagli operatori nazionali, racchiuderà tutti i dati per quanto riguarda le qualità delle acque distribuite, quindi quelle che beviamo a casa, diciamo, prendendone al rubinetto. E per quanto riguarda l'accesso al dato, perché questo ormai è un obbligo inserito nella nuova direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ci sarà la possibilità da parte di qualsiasi consumatore di entrare in questo database e vedere com'è la composizione generale della propria acqua. No, una cosa rapidissima. Sono Antonella Litta e mi occupo della questione pesticidi per le acqua e l'ago di Vico, penso che sia ben chiara la cosa. Ecco, allora, una domanda che le voglio fare, siccome sono dati di cronaca, specie nel Viterbese, se avete appunto notizie sul quantitativo di pesticidi illegali che vengono ancora commercializzati in Italia, perché è un grosso problema, forse quella trazzina non è poi così tanto vecchia dal momento che ci sono tante tonnellate che vengono sequestrate ogni anno di pesticidi illegali che entrano sotto mentite spoglie. Grazie. Allora, ovviamente quello che sono i prodotti illegali è un problema di intercettarli, laddove vengono intercettati intervengono le autorità competenti per ovviamente denunciare e bloccare la cosa. E quanti ne sono stati utilizzati? Ovviamente questi sequestrati, sequestrati ce ne sono tantissimi, ci sono i dati per quanto riguarda questo discorso, però è ovvio, non possono, ciò che non emerge perché è un'attività illegale, è come sostanzialmente quanti stupefacenti girano in Italia. È lo stesso punto interrogativo, cioè si può parlare di quello che viene sequestrato, ma non di quello che è filtrato dalla rete. Scusate, ma c'è un problema di tempi, dobbiamo uscire. Vi dico soltanto, siccome avrei dovuto fare le conclusioni, ma è finito il tempo, vorrei però fare una piccola conclusione. E cioè, abbiamo fatto tre diverse sessioni tavole rotonde, apparentemente molto diverse, regionalismo differenziato, inquinamento atmosferico, agricoltura e sostenibilità. Bene, io vorrei ricordare che come ISDE non li vediamo separatamente, è un tutt'uno, perché questo, come altri argomenti, rientrano nella nostra visione di complessità ed insieme. Per esempio, quando abbiamo parlato di Covid, ci siamo resi conto che se non c'è un sistema sanitario adeguato, e abbiamo visto a quali rischi stiamo andando incontro, abbiamo visto che laddove l'inquinamento atmosferico è maggiore, il livello di casi più gravi era maggiore, ma abbiamo visto anche, e l'ha fatto l'Università di Pisa, la verifica che nelle zone dove è maggiore l'inquinamento dei pesticidi, anche il Covid risultava essere più rilevante. Cosa vuol dire questo? Non che i pesticidi fanno venire il Covid, ma che in tutte le aree dove esiste una condizione che rende più debole la popolazione, perché già inquinata, perché già altre cose, qualunque tipo di malattia può avere effetti maggiori. Cioè noi dobbiamo vederli insieme, non limitarci, come giustamente non dobbiamo guardare il singolo pesticida, ma la miscela, perché è da lì che vede. E un'altra cosa, aggiungo, ma nei dati ISPRA c'è, che oltre a vedere il tipo di sostanza, è bene anche andare ad analizzare gli adiuvanti, perché l'adiuvante qualche volta rende molto più potente l'azione del pesticida e quindi la sua tossicità può variare in associazione anche con sostanze apparentemente non tossiche. Ma è un problema a parte, ma solo per ricordare che per noi è importante vedere l'insieme delle cose. Grazie.